Il Ministero dello Sviluppo Economico chiede la sostituzione degli interlocutori della ONUEL e la FIOM aggiunge basta con i postini senza potere decisionale. Dall'ultimo tavolo svolto a Roma è emerso che la multinazionale americana non vuole recedere dai 263 licenziamenti dell'8 giugno scorso. Un atto ignobile, commenta il segretario FIOM Chieti Davide Labrozzi, che fa nuovamente emergere il disfalore di un'azienda priva di sensibilità sociale. La ONUEL ha detto no all'annullamento dei licenziamenti e noi non siamo così sciocchi da pensare che basta avere un interlocutore diverso per poterlo fare. Ma il ragionamento complessivo e quindi su come noi predisponiamo il percorso di reindustrializzazione secondo noi è importante farlo con chi ha realmente il mandato per poter contrattare con il sindacato. Quindi a questo punto noi unitamente al Ministero abbiamo chiesto la rimozione degli attuali rappresentanti della ONUEL e aspettiamo che a giorni venga riconvocato nuovamente il tavolo. Per il sindacato è fondamentale tenere occupate le persone per almeno dieci mesi di tempo al fine di favorire la reindustrializzazione. Un percorso questo che lascia ben sperare. Ai tre progetti esistenti si sono aggiunte due manifestazioni di interesse. Il Ministero ha ufficializzato che ci sono oltre ai tre progetti di cui abbiamo già ampiamente parlato in queste settimane ci sono altre due manifestazioni di interesse. Questa cosa ci fa stare un po' più tranquilli perché significa non solo che c'è una rosa di proposte importante e quindi c'è anche la possibilità di valutare meglio, ma questo significa che sostanzialmente il know-how che noi mettiamo a disposizione è un know-how importante e quindi abbiamo tutte le carte, avremo tutte le carte in regola per giocare una gran bella partita.